Don Chisciotte della Mancia, libro secondo, capitolo trentanovesimo. La Trifaldi continua il racconto della sua stupenda e memorabile istoria. Da ogni parola di Sancio provava la duchessa tanto piacere quanta era la disperazione di Don Chisciotte, il quale gli comandò di tacere. Dolorida allora proseguì in questo modo. Finalmente, dopo molte dimande e risposte, siccome si mostrava immutabile la infanta nel proposto suo senza alterare d'un punto solo la sua prima dichiarazione, così il vicario sentenziò in favore di Don Claviscio, al quale consegnò la legittima sposa, di che ebbe sia eccessiva amarezza la regina Donna Magunzia, madre di Antonomasia, che dentro lo spazio di tre giorni fu seppellita. Dunque è morta, disse Sancio. E chi ne dubita? rispose Trifaldino. In candaia non si seppelliscono le persone vive, ma le morte. Non fate le maraviglie, replicò Sancio, che noi abbiamo veduto nei nostri paesi seppellire come morto un povero svenuto. E pare a me che la regina Magunzia dovesse svenir piuttosto che morire, già che con la vita si rimedia molte cose. E non fu poi tanto grande lo sproposito della infanta da ridursi all'estremo passo. Sarebbe stato senza rimedio quando pure questa signora si fosse maritata con qualche suo paggio o con altro servitore di casa sua, come hanno fatto molte altre, per quanto intesi dire. Ma l'essere diventata sposa di un cavaliere di garbo, come ce lo avete dipinto? Oh, davvero? Che sarà stata, se volete, una balordagine, ma non tanto grande come voi credete? Secondo le regole del mio padrone, che è qua presente e che non mi lascerà accusar di menzogna, per quella stessa ragione che i vescovi si eleggono tra i letterati, possono crearsi di cavalieri e se sono erranti singolarmente re e imperadori. Hai ragione, Sancio, disse Don Chisciotte, perché è un cavaliere errante, solo che abbia due dita di venture e di potenza propinqua di diventare il più gran signore del mondo. Ma passi avanti la signora Dolorida che, a quanto io penso, le resta di farci sapere l'amaro di questa fino a qui dolce storia. Purtroppo mi resta l'amaro, rispose la contessa, e amaro tanto che a confronto suo sono dolci gli assensi e saporiti gli oleandri. Ora dunque, morta la regina e non isvenuta, la mettemmo in sepoltura e non l'avemmo coperta appena della terra e datole l'ultimo vale. Allorché, quis taliafando tempere talacrimis, sopra un cavallo di legno comparve sulla misera tomba il gigante Malambruno, fratello cugino di Magunzia, il quale oltre all'essere crudele era Ezian Dio incantatore. Costui con le sue arti per vendetta della morte di sua sorella, e per castigo dell'ardimento di Don Claviscio, non meno che per lo dispetto prodotto in lui dalla scappata di Antonomasia, gittò ogni sorta di incantesimo sopra la sepoltura, e lasciò i due sposi trasformati, l'uno in scimia di bronzo, l'altro inispaventoso coccodrillo di ignoto metallo. E in mezzo ad essi fece apparire una lista di bronzo, in cui stavano scritte in lingua siriaca, certe lettere che recate già da quella nella candaiesca ed ora nella castigliana, contengono questa sentenza. Non ripiglieranno questi due audaci amanti le primiere loro forme, finché il prode mancego meco non venga singolare tensone, che a lui solo, pel suo gran valore, riservano i destini questa non più vista ventura. Fatto questo trasse dal fodero larga e smisurata scimitarra, e presami per i capelli fece vista di segarmi la gola e tagliarmi di netto la testa. Restai turbata, la parola mi si soffocò nelle fauci, ed oltre misura mi confusi. Ma con tutto ciò raccolsi possibilmente gli spiriti con tremante e dogliosa voce, mi feci a dirgli tante e tali cose, che lo indussero a sospendere l'esecuzione di così inumano castigo. Finalmente si fecero venire innanzi le matrone tutte di palazzo, che furono quelle stesse che sono qui presenti. E dopo aver esagerata la nostra colpa e vituperata la condizione delle matrone e le loro maletresche e peggiori divisamenti, caricando su d'ognuna la colpa che era veramente tutta mia, soggiunse che non voleva estendere la nostra punizione appena capitale, ma a soggettarci ad altro genere di supplizi, per i quali dovessimo sostenere una civile ma continua morte. Fu al momento che così pronunziò che noi sentimmo tutte che ci si aprivano i pori della faccia e che avevano un punsecchiamento generale, come se fossimo punte da aghi che ci martoriassero. Portammo le mani al viso e ci trovammo, quali ora voi ci vedrete. E in ciò dire, la Dolorida e le altre matrone alzarono i veli e scoprirono i loro visi tutti coperti di barbe, quali rosse, quali bianche e quali castagnice, alla cui vista il duca e la duchessa mostrarono grande maraviglia, si inorridì Don Chisciotte, sance e tutti gli astanti rimasero sbalorditi. La Trifaldi continuò. Ecco come ci punì quel codardo e male intenzionato di Malambruno, coprendo la morbidezza e il delicato dei nostri sembianti con l'asperità di queste setole. Fosse almeno piaciuto al cielo che con la smisurata sua scimitarra ci avesse tronca la testa, che oscurato non avrebbe lo splendore dei nostri volti con questa borra che or ci ricopre. Consideriamo la cosa seriamente, signori miei, e quello che dirò adesso vorrei esprimerlo sgorgando due fiumi di lacrime, se i nostri occhi restati non fossero senza umore e secchi come lische. E ditemi in fede vostra, dove potrà mai andare una matrona con la barba? Quale sarà mai quel padre e quella madre che sosterrà tanta doglia? Chi sarà che le presti assistenza? Se con la carnagione liscia, con la faccia martorizzata da mille sorte di mesture di pomate, trova appena un cane che l'ami. Che sarà mai quando scopra un viso che è diventato un bosco? Ah, matrone e compagne mie, in che disgraziato punto siamo noi mai venute al mondo? In che ora nefandaci procrearono mai i nostri genitori? Dette queste parole, finse di cadere svenuta. Grazie a tutti i nostri genitori e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie!